Ecco qui con noi Daniele Viotti che oggi è stato eletto europarlamentare e uno dei quattro europarlamentari che il Piemonte manderà a Bruxelles. Lui chiediamo un commento sull'andamento di questa tornata elettorale. Beh innanzitutto c'è una enorme soddisfazione per il risultato del Partito Democratico in tutta Italia e nel nostro collegio nella nostra regione siamo al 40% l'abbiamo superato e naturalmente c'è grande soddisfazione per questo. Poi c'è una grande soddisfazione anche per il Piemonte perché il nostro partito porta finalmente due europarlamentari a Bruxelles e quindi questo permetterà naturalmente di lavorare molto meglio anche sul territorio e ci permetterà di lavorare anche bene con il nuovo presidente della regione Chiamparino.